Riprende vigore il parcheggio multipiano in Viale della Croce Rossa. L'assessore all'urbanistica Francesco De Santis ha avviato l'iter procedurale amministrativo per realizzarlo, ma è subito polemica tra maggioranza e opposizione. I fondi saranno quelli residuali del contratto di quartiere 2, 300 stalli e un collegamento meccanizzato per collegarsi con l'area dell'ex ospedale San Salvatore dove c'è la facoltà di lettere, un parcheggio che era previsto nel POMS. È previsto all'interno del piano della mobilità sostenibile, ma sono 40 anni che si discute di un grande parcheggio su quell'area, a parcheggio che sia meccanizzato con il centro storico e anche con un passaggio pedonale bello che possa arrivare fino a Porta Brancogna. È chiaro che l'opposizione critica, del resto non hanno mai proposto nulla, quando hanno avuto l'occasione di poter ridisegnare questa città l'indomani del sisma del 2009 non lo hanno fatto, sono quelli del com'era dov'era, ci hanno lasciato la città com'era dov'era anche più brutta di prima e quindi ci stiamo impiegando del tempo per risistemarla. Del resto gli aquilani hanno confermato la fiducia in questo centrodestra e in questi uomini e in queste donne che governano la città oggi, quindi chiediamo di pazientare i prossimi 4 anni di mandato perché consegneremo dopo 10 anni, noi a differenza del centrosinistra che ha governato questa città, consegneremo l'Aquila agli aquilani più bella, più sicura, più strategicamente sostenibile sul piano della mobilità rispetto a come l'abbiamo trovata. Il PD però è stato molto polemico rimarcando l'assoluta assenza ad oggi di parcheggi in centro ma sottolineando i continui annunci negli anni, mentre in 6 anni di amministrazione Biondi per loro non ne è stato realizzato uno. Ma non se ne può più di questa annuncita cronica con cui l'amministrazione Biondi va avanti senza che nessuno dei progetti annunciati poi si concretizzi. Su Via della Croce Rossa c'era un progetto finanziato con un importo considerevole di 10 milioni di euro che è stato dall'amministrazione Biondi stessa definanziato per fare altri interventi tra cui il progetto del Ponte Belvedere ancora lì appeso nonostante le ripetute promesse. Sta di fatto che in 6 anni di amministrazione di centrodestra non è stato realizzato un parcheggio se non quello a Porta Leoni realizzato con un costo di un milione di euro sempre a riduzione dell'idea iniziale, previsto un progetto multipiano inizialmente dall'amministrazione centrosinistra che però ancora non è aperto. Quindi è una situazione sotto gli occhi di tutti che veramente si scontra con gli annunci ormai insopportabili da parte di questa giunta.